Continua il nostro tool del Mobile World Congress, siamo da Giroptik, un'azienda che ha presentato un accessorio interessante per le persone cui piacciono le foto e i video a 360 gradi. Eccola qua, una fotocamera sferica ovviamente, compatibile attualmente solo con iOS. Vedete, si connette al dispositivo non wireless ma proprio tramite il cavo lightning e include una batteria che va ricaricata con un altro cavo che è USB. Si connette direttamente allo smartphone in questo modo, per utilizzare l'applicazione come vedete bisogna utilizzare lo smartphone al contrario e una delle caratteristiche principali oltre al mio improbabile taglio di capelli è che è una fotocamera gestita da un'applicazione molto user-friendly, appena si connette si vede un'anteprima di quello che inquadra, i video vengono registrati in 2K e questo è un particolare molto importante perché i dispositivi come per esempio la Theta S di Ricoh registrano video in Full HD che poi elaborati in modalità sferica fanno schifo. Le fotografie invece sono in 4K, proviamo a fare una fotografia e invece stiamo facendo video ma va bene lo stesso. Un video che come potete vedere in effetti è di buona qualità, adesso lo andiamo a vedere nella galleria, si la qualità del video è piuttosto buona soprattutto rispetto alla Theta, è possibile vedere anche il video nella modalità Little Planet, eccoci qua quanto siamo belli ed è possibile vederlo in modalità Cardboard nel caso in cui si abbia un visore compatibile. Anche le fotografie ovviamente sono di buona qualità. Questo accessorio che sarà in vendita anche in Italia ha il prezzo di 249€ quindi un prezzo piuttosto contenuto rispetto ai competitor anche se si tratta secondo me di un prezzo ancora piuttosto alto per far sì che questi dispositivi vengano acquistati in massa ed esce dalla confezione con questa cover, una cover che se riesco ad aprire non solo contiene la fotocamera per il trasporto ma appoggiata su un piano in questo modo, funziona anche da stand che si può ovviamente utilizzare per scattare a fotosferiche quando la fotocamera è connessa in questo modo. Io sono Dara Caliendo, questa è la fotocamera sferica Geoptic, include anche un microfono, dal Mobile Congress, un abbraccio.